E' tanto che non ci sentiamo, ma oggi sono qui per delle buone notizie. Questo weekend, precisamente domenica 18 settembre, sarò a presentare, condurre e commentare un evento a tema League of Legends marchiato MSI. L'evento si chiama Road to Games Week e prevede 4 squadre che si andranno ad affrontare nella fascia mattutina, i quali poi andranno a sfidarsi e avremo un vincitore che fortunatamente riuscirà ad affrontare altre 3 squadre nazionali provenienti da tutta Italia, a Sarelan o negozi, composte da giocatori non professionisti, i quali lotteranno e si sfideranno per aggiudicarsi posto sul palco del Games Week. Vi ricordo che durante la giornata ci sarà appunto l'opportunità di vederci e scambiare magari due chiacchiere, per chi non mi avesse mai incontrato di persona, ma anche quella di vincere dei gadget e dei premi marchiati MSI. Dal momento che comunque non ho mai messo piede dalle vostre parti, sì, perché non ci sono mai stato, passate a trovarmi in tanti, siate numerosi e ricordatevi comunque di essere presenti a questo evento organizzato presso il centro commerciale La Fattoria a Rovico. Mi raccomando, vi lascio tutti i link in descrizione. Ci vediamo presto, ragazzi, a domenica. Opera! La Fattoria a Rovico